Natale tutto l'anno, Presidente. Sì, un segnale che vogliamo dare forte alla città perché ci sono tanti bisogni da tutte le famiglie. E quindi attraverso Don Ezio abbiamo ascoltato il suo appello su Re 3. Grazie al Vicepresidente di Commercio e Presidente Sib, Luca Manica, abbiamo colto immediatamente l'appello e fortemente voluto una raccolta fondi che venga accompagnata da tutte le categorie di appartenenza che abbiamo all'interno di Commercio. È un segnale che vogliamo dare alla città di spinta perché bisogna avere orecchio per capire chi ha più bisogno e per far parte di una società civile corretta. Luca, sono tante anche le famiglie crotonese in difficoltà che hanno come punto di riferimento la mensa dei poveri? Sì, è una realtà che sicuramente non ci aspettavamo. Siamo stati col Presidente lì in mensa, abbiamo visto tanti nostri concittadini e un attimino questo ci ha lasciato i perplessi. Abbiamo legato questo discorso a questa crisi generalizzata che ha colpito anche tanti imprenditori, commercianti che hanno chiuso e abbiamo trovato un porto di umanità cristiana che è la mensa dove lì vai e non ti dicono chi sei ma di cosa hai bisogno. Allora, diceva Monsignor Limbina, piccole gocce formano un oceano, quindi si può stare vicino a queste famiglie nel silenzio ma con la volontà di aiutare. Sì, questo sì, noi abbiamo denominato proprio questo momento Natale tutto l'anno. Natale sappiamo quanto è importante per le famiglie, non vogliamo che sia una goccia, ma vogliamo che sia una goccia tutti i giorni perché si ha bisogno tutti i giorni. Don Ezio insegna, è un prete che mette il cuore avanti ogni cosa. Quindi ha capito che c'è tanto bisogno e nel bisogno bisogna dare risposte certe, non raccontare favole. Noi oggi come Commercio vogliamo dare risposte certe, le vogliamo accompagnare quotidianamente. Ecco perché abbiamo dato un apporto per tutto il 2022, oltre al 2021. I commercianti hanno risposto tutti positivamente? Sì, devo dire la verità, è stata una bella soddisfazione per noi Commercio avere questa adessione di massa. Nonostante anche loro non stiano vivendo dei momenti economici positivi, hanno subito aderito tutte le categorie a questa raccolta fondi per dare una sorta di tranquillità temporanea alla mensa. È chiaro che comunque questo non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. Abbiamo per questo fatto delle locandine dove chiunque può partecipare a una donazione. Donazione che significa anche piccole somme, non c'è bisogno di grossi interventi, ma sulla quantità riusciamo a dare un aiuto più massiccio a Donnezio.